Salve a tutti e benvenuti da Cristian Ciuffa sempre sul canale che potete iscrivervi cliccando la campanellina per ricevere anche notifiche quando sono in streaming oppure quando carico nuovo contenuto e ovviamente vi do prima di tutto un breve cenno per quanto riguarda i mercati questa mattina. Prima di tutto il testa e spalle dell'euro dollaro che si sta appropinquando praticamente sulla zona di supporto statico molto forte mensile degli 1,12 stiamo ancora vedete in una situazione di un probabile testa e spalle. Vedete questa spalla testa e spalla vedete ancora forti livelli questi che garantiscono ancora una sorta di forte contrazione del prezzo. In più vedete anche l'RSI che ha in completa divergenza con il prezzo, un RSI che appunto diverge da giugno ad agosto appunto abbiamo questa zona di divergenza veramente forte in una condizione di iper venduto che ha toccato il prezzo negli ultimi giorni. Quindi l'euro dollaro che io ancora prevedo un'azione verso l'alto di reversal su un trend comunque che è partito diciamo ultimamente dagli 1,12 500 sta ritracciando. E' arrivato a fare un doppio minimo proprio sugli 1,12 che è quel supporto molto forte che potrebbe insieme al supporto anche questo degli 1,11 e 700 essere una forte zona di supporto statico. In più volevo farvi vedere che questo comunque è confluente anche con un livello di fibonacci molto importante. Perché se andiamo a tracciare il livello di fibonacci proprio dal livello diciamo 1,11 e 200 e arrivando proprio al livello questo degli 1,14 e 160 vediamo che il livello di prezzo non si è diciamo arrotto per così dire il 61% ma è rimasto all'interno tra il 61 e il 78%. Questo è anche una forte zona appunto di confluenza perché gli 1,12 e 300 quindi gli 1,12 e 1,12 e 300 è quella zona anche di confluenza statica e dinamica che potrebbe veramente far stazionare il prezzo per qualche giorno prima di vedere un rialzo secondo me molto molto forte. Proprio perché è dovuto anche ci sono segnali anche di questo testa e spalle di lungo periodo ma anche una divergenza molto forte. Con e ve lo faccio vedere questa è una una degli degli aspetti fondamentali di questa analisi di questa mattina sull'euro dollaro che è quell'aspetto che riguarda anche i volumi che sono ovviamente in discesa rispetto al dicembre del 2018. Ma vedete come sono rimasti comunque in questo momento storico qui ancora abbastanza alti questo potrebbe veramente andare a presagire comunque anche se sono scesi ovviamente per il pullback. Vedete come potrebbero veramente andare a rialzarsi per accompagnare il trend futuro quindi questo è la media dei volumi ancora ancora si trova comunque in una situazione di molto buona definita. E comunque racchiude questa fase di consolidamento del prezzo tra gli 1,12 e gli 1,13 diciamo 1,13 e 200. Voglio farvi vedere anche la sterlina che io sto vedendo una sterlina abbastanza aspettate eccolo qui sto vedendo la sterlina che è in calo ovviamente a raggiungere più che altro un livello di mensile degli 1,23 e 600. Ovviamente questo è un livello molto forte che è dovuto anche a delle decisioni riguardo la politica economica diciamo la politica economica comunque inglese che coincidono col fatto anche di una macroeconomia geopolitica a livello di diciamo americano che potrebbe veramente far vedere da qui un rialzo molto forte perché c'è stato questa era la fine di un pattern armonico di lungo periodo si è avvenuto leggermente più ma non è andato a secondo almeno le mie regole non è andato oltre il punto x che poi sarebbe appunto questo spike grande questo minimo sugli 1,23 e un'altra cosa molto importante è la divergenza che c'è in questo momento ovviamente con il prezzo che potrebbe appunto che è stata determinante per arrivare di nuovo costantemente in un iper venduto quindi una divergenza ribassista che c'è stata finora che potrebbe cambiare le sorti di questo prezzo perché si è arrivati appunto in una zona di iper venduto molto forte che è questo appunto sotto i 30 di valore ovviamente l'iper venduto che è proprio questa zona qui tra i 20 e i 30 diciamo punti dell'RSI abbiamo anche un altro aspetto fondamentale che è quello ovviamente delle medie mobili che comunque puntano verso il basso ovviamente perché sono ancora in una situazione di downtrend ma potrebbero occhio a questa veramente a un visto che siamo in un fine ciclo guardate 1,2,3,4,5 quindi le medie mobili annunceranno secondo me molto a breve il reversal quindi un'attenzione particolare anche alle medie mobili di lungo periodo che potrebbero veramente girare il loro corso per arrivare proprio a quelli 1,30 che è il target di medio-lungo periodo che abbiamo posto anche perché guardate una cosa importante è stata questa cioè quella di andare a vedere anche l'arrivo in confluenza con il 127% ragazzi questo è un arrivo confluente con il 127% che racchiude un aspetto di supporto statico molto forte perché questi valori qui questi tra il 127 e appunto e l'1,24 netti diciamo sono un livello non solo di supporto statico molto forte mensile ma anche un livello di confluenza sul 127% dell'asterina quindi io mi aspetto un bellissimo diciamo trend a rialzo ora che potrebbe arrivare appunto intorno agli 1,30 proprio per far confluire anche potrebbe essere anche questo appunto un cipher pattern che potrebbe appunto scaturire questa azione di rialzo della sterlina un'altra cosa molto importante è riguardante l'oro che non ha accennato che ancora continua come io avevo diciamo previsto non ha accennato a ripiegarsi anzi è arrivato sui 1,400 dollari in questo momento ha toccato addirittura gli 1,440 cioè quasi è arrivato sta ancora diciamo lateralizzando ma guardate stiamo in compressione del prezzo e potrebbe veramente da qui ovviamente alla settimana prossima andare continuare questo trend che si sta avendo verso i 1,490 quindi questo mi aspetto nelle prossime ore vedete come la freccia avevo diciamo previsto dopo questo pullback vedete ancora lateralizzazione dovuta anche a un dollaro molto ancora molto debole diciamo volevo farvi vedere anche la situazione del greggio che sta andato a fare questo pullback molto forte anche dovuto penso questa è un'azione che sembra proprio essere diciamo pilotata dalle mani forti vedete come sta ritornando verso i valori dei il valore dei 64 dollari quindi questo è anche un aspetto fondamentale di questo trend perché questa lateralizzazione può essere anche l'avvio per una stabilizzazione del prezzo per arrivare appunto a toccare diciamo questa alla prima soglia dei 63 dollari ok questo è quello che ci possiamo aspettare nelle prossime ore potrebbe il prezzo arrivare ancora magari a ritestare con nelle prossime ore anche magari un valore leggermente più basso ma io credo molto probabilmente che inizierà, continuerà questo trend al rialzo già dalle prossime ore però potrebbe anche il prezzo ancora lateralizzare per qualche giorno una cosa importante è la rottura di questi 60 dollari perché questa rottura dei 60 dollari ti crederebbe anche una rottura veramente forte che potrebbe portare il prezzo veramente in alto quindi attenzione a questo livello di 60 dollari bene anche questa mattina è tutto io vi ringrazio molto per essere stati qui con me anche oggi e vi auguro un buon trading a tutti da Christian Ciuffa ciao ciao